Allora, controlli esterni completati. Coppietro lo tolto io. Sì, ho visto. Sobili regolati, cinture allacciate, copolino lo chiudiamo dopo, per il paccheggio inserito, comandi, faccio la cosa, perfetto, liberi, carburante aperto in lesto, ottimo, quindi avviamento, master on, booster, vediamo se arriviamo a quanto che sai. A quanto che sai che siamo arrivati, quindi avviamento freddo. Allora, chokes, la mette indietro. Sì, la mette indietro. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.